secondo lei l'esplosivo di piazza della loggia può essere provenisse da quei carichi che poi finirono anche a piazza fontana cioè lo stesso l'esplosivo secondo quanto insomma secondo lei lei vuol dire che era lo stesso erano gli stessi elementi la cellula è la stessa probabilmente al meno si sembra che sia così sono sempre gli odio visti veneti l'esplosivo secondo lei può essere che sia lo stesso ma a distanza di cinque anni è un po difficile che possano gli stessi io penso che si trattasse di nuovi elementi naturalmente allevati nello stesso clima ma non necessariamente coinvolti in fatti di giusto cinque anni prima buonarsi questo non lo so proprio dire si parla ad esempio di zorzi che sarebbe coinvolto sia in piazza fontana che in piazza della loggia potrebbe darsi ma ripeto sono passati cinque anni molti di quelli che hanno tagliato la corda o si sono nascosti o sono sfuggiti alla giustizia dopo piazza fontana non intendo non ripetere una piazza portano una loro esperienza del genere credo si tengono alla larga ma mandano altri infatti io credo che i nomi che sono emersi dalle indagini dagli accertamenti sulla loggia non siano accostabili a quelli di milano se non per deduzione ma non mi risulta assolutamente non mi risulta cioè lei dice la covata è la stessa però i nomi sono diversi la covata si era la stessa io penso che e i pulcini alcuni erano diventati abbastanza adulti e più salti per tenersene fuori altri invece volevano provarsi provare le proprie capacità grazie grazie grazie